bella ragazzi qui siamo jack e john e oggi qua dovremmo giocare all'attacco dei givanti qui scegliamo la novità single player, qui scegliamo la polesta, mettiamo Eren ragazzi noi siamo abbiamo aperto un nuovo canale quindi faremo anche dei blog così voi ci farete le domande eccetera poi vi diremo nei prossimi video la pagina facebook la testa dovevo prenderci tra il collo ma perchè ti faccio queste mozzetare ma lanciano uno snack e pulizietti i denti qui c'è tutte le nuove su ca, lancia la cella, lancia la cella aspetta li c'ho non basta faccio faccio uno che cosa è dietro? e vai che mi piace e ti dico ucciso fuoco uno fuori uno aspetta vediamo la visuale oh veloce ragazzi qui qui vai sparai sparai il città non ci arriva si che ci arriva oh ma ma dove fai ci sto scacciando il brutto il mio stile che molla stai l'inchiesto uno di uomo molla finita ma stai uuuu 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 fuori due ne mancano soltanto uno perchè abbiamo riniziato ok ne mancano soltanto altri diecimila no quattordici 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 mila che cavolo no quattordici quattordici al suo mistura Rhodeone uuu Granny uuuu wren uoooo uuuu la pe maia Vola, 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 vola la pe maia, che è tanto handicappato. Quello chi è? D'Artagnan? Vai a D'Artagnan, D'Artagnan, è il moschettieri del re. Qua c'è D'Artagnan style. D'Artagnan style. Aspetta, non mi sono presa, no. Ma perché dove ci sto mangiare? D'Artagnan, D'Artagnan, è il moschettieri del re. Ma vediamo qua. Le mollati sopra lui! Dai che c'è di sta. No, ma poi faccio mancarlo. Vieni via, corri, 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 corri. Vabbè, sei usciuto su questa cascata. Vai a cercare qualcuno di più di grosso, tipo. A D'Artagnan, andiamo a fargli il collo a D'Artagnan. D'Artagnan ti arriva come le panciate. Si, ah boh. D'Artagnan si guarda lo scaltro, ma tanto le lame di lungo ce l'abbiamo. Quanto c'è le lame? ma davanti a cui nel suo piccoletto al piccoletto 7 di sera ma donna dove sei entrato dei rampini di schifo non voglio dire altro vai a cacciare quello di chiesa e ma non è difficilissimo ciò è un cuoco riesce facciamo se si fa male e cambire fuoco ne mancano soltanto l'articolo dartagnano vai"... no no niente piccoletti appena no se non ci uccidero a cui non arriva qualcuno lì sembra un mosticiato miglia é dartagnano mi sa him guess sembra l'altro è pericoloso vai 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 canno me il culo Corri chi vuoi端è cactha un Bug count andiamo a cercare il piccoletto qua c'è mamma e figlio ci sono fatto il figlio mamma e figlio madonna che ciumpata come vi fa aspetta vai a un mostro vai qua questo ferma che forse è anomalo salve lei vuole venire con me da una parte va bene ho capito che non vuole venire ma non faccia così dai si sta facendo l'albero vi tradisce con l'albero che mostro vi tradisce con l'albero oh no oh mi stai andando giù giù su su fuora via giù 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 su 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 si si davide via 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 ma perché si non fa l'albero vai dietro dietro uccidiamo ad artegna aspetta fallo con vai giù poco 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 giù 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 vai tagliaci no madonna mia d'artagnamma fai schifo intanto c'è la barra piena mi potevo trasformare vabbè perché ti vuoi anche trasformare qua ma non lo sapevo no stiamo trasformando in gigante non lo sape in gigante vero ah ok adesso prendiamo la barriera madonna mia io chiuso a raffaretta no madonna c'è una mina eh proviamo ad andare sopra un albero lì ad artegna lì sopra lì che ti fa ingroppare chiampolo chiampolo non so fare ingroppare si ingroppalo ma cura il piccoletto via via sopra un albero corri ma chi tu d'arci crei che io un'altra volta sono salito sopra un albero quel piccoletto ha fatto un salto che pareva duemila metri ma cura se non ti stagini intorno è pericoloso d'arci zitto lo puoi prendere è pronti arrivo rampino manca arriva manca 120 metri me lo prego e siamo a me cammina come a picchiare il d'arci ma no si è ingroppato l'albero ma cura il d'arci dietro l'albero salve salve d'arci dall'altro prendiamo con la destra via muora fuoco fuoco fai 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 fallacciavolo fallacciavolo fallonna che potenzio ce l'abbiamo fatta con d'artagnan a tagliare il collo attento all'altro vabbè non penso che ci vieni finale madonna ma che si è girato eh cos'è una gangbang io mi rifererei via corri 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 cosa è correre non piritare correre forse posso sfumare dai e carica di dio via 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 c'è il piccoletto c'è il piccoletto dimmi c'è il piccoletto rapparedetto dai un salto ok guarda dittorio se non c'è quello ah la gangbang uh dimmi chi si ha vai dire qualcosa a prima questo prima se non c'è la gangbang chissi ciao guarda 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 Cerca ma che ne mancano 8 altri 6 o 8 salve non la vogliamo toccare quindi faccio i pezzi suoi e non ci distruggi così no no ma perché ma chi la vuole chi la vuole tanto ne ho un pezzo me l'hai introvato un pezzo vabbè ma c'è stato vai intavuca the best forever affia la cella e te voglio vai esci e giochiamo all'arena con i blocchi gli alberi mi stanno cercando un po' di più uccidiamo gli ultimi ciao sono qui tagli i bagni la testa vai levati questa qua è la tecnica adesso li uccideremo tutti quanti così vediamo se ci riusciamo a citerli tutti così l'inizio è una bellissima tecnica si è una bellissima tecnica come dice bellissima tecnica vediamo intanto che tempo abbiamo 158 minuti 10 minuti 10 minuti vabbè concludiamo qui l'episodio ci vediamo alla prossima parte lasciate mi piace un momento e vi diremo nelle prossime nei prossimi video se faremo dei blog e altri video vi salutiamo da Jack e John e ci vediamo la prossima parte ciao ciao